E' meglio fare la funzione laterale, perché la funzione laterale diventa difficile fare il corpo libero, mantenere la posizione corretta, e poi facciamo un passo laterale, e andiamo, e ritorniamo su, cercate i ordinari delle serenze da un po' più parola. Ok ragazzi, vedete quando va all'esterno, è una azienda della vita, e si mettono la posizione della punta del piede, come movimento, ok? I piedi sono segnato da terra, carica le corde sul tallone, il sedere che va indietro, l'addominamento in atto e tutto è contratto.